dai dove devi andare vieni qua che in giro non ti porto eh bravo vai a rifare la ragnatela ho detto che non ti porto non ti porto guarda che sei fissato eh ma penso te che devo sta qualificando un ragno non ti porto in giro fatene libero beato poi bravo eh ci rivediamo settimana prossima non ti porto in giro non ti porto in giro arriva qua il topo morto eh arriva dentro qua sopra lì però non ce lo vuoi il topo morto arriva qua da sopra là no ma non devi pulire è sopra lì l'uscita c'è solo quel tronco là non ti porto in giro fatene non ti porto in giro fisse non ti porto in giro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, vai. Vai. Di là, Leo, di là, di là. È di là adesso, dobbiamo fare quella lì. E' un segno se lì in mezzo alle vallie. E' un segno se lì in mezzo alle vallie. E' un segno se lo togliamo. Noi non ci rolleviamo dai marones. Quello cos'è? E' nato, è nato, è nato. Lo so, ma l'avevo già perso da un prezzo. Lo mettiamo qua nella volpina. Non ci sta la cazzarola. 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 Grazie a tutti.